Ciao! Anche oggi un nuovo video. Oggi preparo la focaccia con pomodorini e olive. Se vi piacciono le mie ricette seguitemi anche su Cucine e Pastici. Ciao! Gli ingredienti sono la farina, l'acqua, il sale, i pomodorini, le patate bollite, le olive nere, l'olio d'oliva, e una bustina di lievito secco o fresco come preferita. Grazie! 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 Grazie!